Aveva rubato 7.000 euro dalla cassaforte della cassa continua, il cinquantenne di origini abruzzesi, dipendente dell'area di servizio dell'autostrada A14 Metauro Ovest, sotto il comune di Mondolfo. È stata la direttrice dell'autogrill ad accorgersi che dai versamenti fatti ed inseriti nella cassa mancavano delle buste di denaro contenente gli incassi del locale riferiti al mese di ottobre. Dopo la prima denuncia contro i gnoti, sporta inizialmente dalla dirigente, sono scattati sia da parte della direzione del gerente commerciale che dall'istituto di vigilanza privata i controlli straordinari e senza preavviso all'interno dell'attività. Dopo aver constatato che la somma di denaro mancante era piuttosto elevata, la direttrice ha quindi proceduto con il chiamare alla polizia del reparto autostradale di Fano. I sospetti sono subito ricaduti sul dipendente cinquantenne, risultato l'unico in possesso delle chiavi della cassaforte. L'uomo, dopo aver negato inizialmente di essere colpevole, una volta messo alle strette dagli investigatori della polizia stradale, ha indicato il nascondiglio delle buste contenenti i 7.000 euro rinvenuti che si trovavano in un attiguo magazzino di stoccaggio sotto un ripiano e ben nascoste da numerosi contenitori ed involucri, ma pare che da un conteggio fatto dalla direzione mancherebbero in totale 8.000 euro. Il ladro è stato denunciato a piede libero per furto aggravato.